Diciottesimo Tutte Storie, chi c'è c'è e come siamo sui social, noi ci siamo sui social ma come? Nell'ambito degli eventi del festival oggi alle 18.30 nei locali dell'Exma faremo un ragionamento intitolato e viscero connessi e contenti, cioè gli strumenti ci sono, lo stiamo usando in questo momento, lo usiamo tutti i giorni anche in momenti quasi insospettati, è un grandissimo vantaggio, però capiamo dove effettivamente lo strumento è a nostro servizio e non quando noi siamo a servizio di qualcuno che questo strumento, specialmente le app dei social, lo gestisce e lo propone. Quindi un ragionamento con gli adulti, con i genitori, gli educatori, gli insegnanti per aiutare a crescere insieme ai ragazzi specialmente quando anche noi siamo imparati un po' tardi perché questo strumento da bambini non ce l'avevamo.